Benvenuti nel mondo degli orologi terra-cielo-mare. L'arte dell'orologeria è molto più di un semplice strumento per misurare il tempo. È l'espressione di una passione profonda, la sintesi tra la maestria artigianale e l'innovazione tecnologica. Nel mondo dei marchi di orologi, uno splendido gioiello italiano brilla con un'aura di autenticità e ricerca incessante dell'eccellenza, terra-cielo-mare. Terra-cielo-mare è un marchio di orologi italiano fondato nel 1999 da Luca Fontana, che si distingue per la sua attenzione ai dettagli e per la produzione di orologi di alta qualità. La filosofia del marchio è basata sulla passione per l'avventura e l'esplorazione, prendendo il nome dalle tre dimensioni della terra, del cielo e del mare, che rappresentano i tre elementi fondamentali dell'esplorazione. La filosofia di terra-cielo-mare è una sinfonia di avventura e scoperta. Il nome stesso è un omaggio alle tre dimensioni fondamentali dell'esplorazione, terra, cielo e mare. Questi tre elementi sono intrinsecamente intrecciati nella storia umana di conquista e scoperta. Questo approccio si riflette in ogni orologio, che è più di un semplice accessorio, è un compagno che incarna il desiderio di esplorare e superare i limiti. Terra-cielo-mare utilizza materiali di alta qualità come acciaio inossidabile, titanio e cristallo zaffiro per creare orologi resistenti e duraturi. Inoltre, il marchio si impegna a creare orologi ecologici e sostenibili utilizzando materiali riciclabili e fonti di energia rinnovabile. Questo impegno nei confronti dell'ambiente è evidente nella produzione di orologi con materiali eco-friendly e con l'utilizzo di fonti di energia rinnovabile. Grazie a tutti.